Parliamo adesso di contagi da Covid-19 in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano 424 nuovi casi positivi di età compresa tra 8 mesi e 94 anni su 7.563 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. 6 i pazienti deceduti di età compresa tra 61 e 87 anni, uno in provincia di Teramo, 4 in quella dell'Aquila, una persona in provincia di Pescara. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 34 in provincia dell'Aquila, 26 in quella di Chieti, 21 in provincia di Teramo e 10 in quella di Pescara. I dimessi guariti sono 218 in più rispetto a ieri e gli attualmente positivi 199 in più. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 5,6%. 577 pazienti, meno 29 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 68 meno 1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.695 più 229 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, le aziende sanitarie locali.